È una riunione che è stata programmata ieri per concordare il comportamento nella prima votazione. Che è da bianca? L'orientamento mi pare questo, salvo che non ci siano state novità in queste ore. E ce ne sono state, no? Che mi risulti, no. Ma lei ti è tornato a parlare di Mattarella? Beh, ovviamente, io credo che in questa fase occorra rispettare la volontà del Presidente Mattarella che ha fatto capire in più di un'occasione di ritenere inopportuna il suo secondo mandato.